Oh, Cole! È tutto pronto! La Roche e i suoi uomini sono Cristo! Riesce a concentrarti cinque minuti! Non posso sempre... Qual è il piano? Beh, dopo che avrete preso le torrette, io e i miei uomini entriamo, rivoltiamo il posto e vi portiamo il gengillo. Dispositivo di trasferimento, non gengillo. Di ai tuoi uomini di andarci piano. Già, i miei ragazzi saranno un po' scalmanati. Dio li salvi. Se ci aiutate con la milizia, l'aggeggio sarà vostro. Così lo faremo a pezzi, giusto? Oh, ci scambieremo i poteri, no? Perché te ne esci sempre con le tepe giù. Ok, decideremo dopo. Ora capiamo come conquistare questo forte. Come ha detto il pervertito, io e te attacchiamo insieme il lato nord, poi entro e do una mano a ripulire l'interno. Già, poi vieni con me e andiamo a seminare il pane qui sul lato sud. Qual è il problema? Ma due amicone come voi non vogliono lavorare insieme? Beh, non lo so. Vuoi che ci battiamo tra noi o contro la milizia? Oh, posso votare anch'io? Mi piace la lotta tra donne. Capisci? Roba di graffi e calci. Capelli tirati. Sta' attento. O ti sparo. Diamoci da fare. Sì, l'ha già sentita. E tu che ne dici? Ok. Come non detto. All'interno! Notevole! Continuo ad abbattere quell'artiglieria pesante, così i miei ragazzi potranno entrare e scatenare l'inferno! Sì, l'ha già sentita! Sì, l'ha già sentita! Sì, l'ha già sentita! Granata in arrivo! Sì, l'ha già sentita! Sì, l'ha già sentita! Sci-la sottotitica! Passata in arrivo! Sì, l'ha già sentita! Quello! Aferra! 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 Quella è l'ultima torretta all'estremità north. Entro e do una mano a cercare il dispositivo di trasferimento. Sì, lo vedo. Il trasformatore più vicino si trova nei pressi del cantiere. Invio le coordinate. Grazie, amico. Ok. Un'unico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua fuori, siamo sotto il fuoco dei mortali! Grazie a tutti. 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 Come funziona? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.